Allora, il 22 marzo 2022 i carabinieri del nucleo antisabottaggio di Nuoro sono intervenuti in una strada nella zona di Tortolì per la presenza di un ordigno, rinvenendo un contenitore di metallo di forma circolare cilindrica, alto mezzo metro, che però si è scoperto solo in seguito non essere un ordigno per fortuna, ma un contenitore logistico per un missile filoguidato senza il missile al suo interno. Ripeto, non credo che le due cose siano collegate, ma se come dice Fiordalisi...